Quando mi hanno portato all'ospedale, dopo un po' di giorni sono stato operato, mi hanno tolto le schecce, mi hanno operato le ginocchia, perché avevo le tibie bucate, parte a parte, dei bucchi. E viene lì, i partigiani eravamo pieni all'ospedale San Paolo, viene se un partigiano mi fa, di Nando, c'è una ragazza laggiù, in camera, così e così, dice che era portata qui perché era rimasta tutta ferita nelle gambe, tutta, e fa vedere un mucchio di fotografie, sono tutti repubblicani. Davvero? Sì, sì. E mi fa, puoi camminare, cammino se c'è le stampelle. Allora sono preso la pistola, l'ho messa qui, che l'avevo lì nel letto, attaccato al letto dove avevo stent e pistola. Andiamo giù da questa ragazza e le dico, fammele vedere anche a me le fotografie, ma noi non, fammi vedere le fotografie altrimenti ti ammazzo. Me le fate vedere. Fate vedere queste foto, in quel momento erano arrivati altri partigiani, e le ho detto, questa qui è la ragazza di quella notte che noi siamo andati, eravamo 150 partigiani partiti dalle langhe, eravamo andati a San Giuseppe, stazione di San Giuseppe, a Cairo, lì, no? per far saltare il treno blindato. Allora siamo partiti di qui a piedi. Abbiamo fatto tutta la lidea ferroviaria e siamo andati giù. Arrivati a San Giuseppe, il treno non c'era più, era andato in Liguria. E c'era il tenente Gino, quello che ci comandava, dice, ragazze, Io prima di venire qui sono stato bene informato, qui ci sono tutte baracche in legno. Guardate, dieci di qua, dieci di lì, dieci laggiù, andiamo a saltare tutte quelle baracche. E fate fuori, eh, dice, fate fuori. Mi ricordo che noi siamo arrivati a una baracca, entriamo lì, picchiamo, apriamo la porta. Il tenente era lì dietro di noi. E sta ragazza si era buttata sotto ai tavoli, non l'abbiamo vista. Però di dentro c'era il chiaro, il tenente ha visto che uno di questi ha preso una bomba e ha cercato di buttarla. Si vede che qualcuno di noi ha preso la porta, l'ha chiusa, la bomba ha picchiato nella porta e precipitata di nuovo a dentro. Ed è quando che lì è successo un casino che non finiva più, gli hanno dovuto scappare, perché poi da tutte le parti sparavano. E siamo arrivati a piedi di nuovo, eh, per la ferroviaria. Siamo arrivati a Cosseria, dove si vedeva sul castello di Cosseria, dove al castello di Cosseria c'era un drappello di repubblicani e c'era un tenente che li comandava. Di lassù si sono messi a sparare. Però qualcuno che era venuto su ha preso la locomotiva con un vagone e ci era venuto incontro e ci ha portati giù. Però fino solo a Piarocchetta, perché a Piarocchetta il ponte l'avevamo fatto saltare noi. Quella ragazza lì si è salvata che era sotto il tavolo. la bomba non ha picchiato, ma è in mezzo agli altri lì. E quando è andata all'ospedale, l'ha presa, l'ha portata, viene che ti portiamo a fare una passeggiata al porto. L'ha portata lì, sulle spondole del porto. E l'ha finita lì, quella lì. E l'ha portata lì, la lì.